andiamo a cogliere il bellissimo bellengo eccolo qualcosa di veramente bello guardate molto bello bellissimo fungo di carne eccolo in ferlengo guardate quanto bello lo andiamo a tagliare bello molto bello alla prossima per ferlengo oggi sono tutti grandi andiamo a tagliare guardate che bellissimo ferlengo il panorama bellissimo questo posto fungone ma dopo allora altri due dei ferlinghi andiamo a cogliere uno che stai che stai che stai molto bello molto bello che stai che stai che stai che stai che stai che stai che stai